eccoci oggi oggi strada della libertà se riusciamo a trovare l'imbarco andiamo se lo troviamo sicuro vero allora per arrivare qui alessandra abbiamo preso la metropolitana linea 1 rossa da time square direzione downtown direzione downtown south ferry la fermata il capolinea non potete sbagliare ci siamo riusciti noi allora appena usciti dalla metropolitana south ferry si arriva con veramente due minuti a piedi si arriva un battello traghetto ci porterà lì giù alla statua della libertà quindi è molto facile ritujo 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 Se mai mi venisse in mente di salire sulla corona della Statua dell'Empolità, i piedi vanno prenotati con un largissimo anticipo, almeno 5 mesi, altrimenti è tutto sold out. Mi raccomando, non fate come noi che ovviamente non abbiamo prenotato, e abbiamo fatto soltanto una liscuola, una parte esterna, un abbastamento leggero, però non potete venire, non potete venire. A presto! 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 Dopo le fatiche della Statua della Libertà, buona birra soprattutto da buoni italiani, semifinale Champions. Adesso scesi dal battello che ci ha portato prima alla Statua della Libertà e poi all'Eas Island, al Museo dell'Immigrazione, a piedi, sono veramente a distanza al minimo, a un chilometro, ce ne andiamo, piano piano, al Memoriale dell'11 settembre, che è di strada praticamente. Alessandra è già stanca. Mamma mia! A presto! Hoorah! Hoorah! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501